Alessandra Tripoli, la ballerina professionista che ha danzato accanto Enrico Montesano nella recente edizione di Ballando con le stelle, ha subito una dolorosa perdita. Solo di recente, tramite un post su Instagram, ha voluto condividere il suo dolore con i suoi seguaci. Sua madre è scomparsa dopo una lunga battaglia. Le sue parole sui social sono strazianti. Credevo che tu avresti vinto, credevo che avremmo avuto più tempo. Parole accompagnate da un'immagine commovente in cui la donna sorride, stringendo tra le braccia il suo nipotino Liam, nato dalla relazione tra la ballerina e Luca Urso.